... Chi tra voi era sveglio ieri notte potrebbe aver visto tremolare le luci del raft. Purtroppo non hanno fritto un detenuto sulla sedia. No, a quanto pare il direttivo ha costretto Electro a pagarsi vitto e alloggio alimentando l'intera prigione per risparmiare sui costi pubblici. L'idea non è male, ma quel criminale recidivo odia il suo nuovo lavoro quanto adora uccidere e rapinare. Quindi hanno dovuto ricollegare il raft alla rete elettrica della città. E forse è per questo che non riesco ad accendere microonde e tostapane insieme senza far saltare la corrente. E forse è per questo che non riesco ad accendere. E' per questo che non riesco ad accendere. C'è per questo che non riesco ad accendere. hanno sequestrato un autobus. Ok, la situazione sembra di nuovo sotto controllo. Forse Peter Parker dovrebbe tornare al laboratorio. Qui mi muovo quasi alla cieca. Devo cercare altre torri da attivare. Perchè lo dipendente, Osto? Vi attrascinate all'interno. Non ti può fare soltarezza. Mentre vedete il carteggio da settivore, libero da soli e di plastricosti. La segnata è il mio Osto. Promettiamo che sarete ricompensati. Inseguimento in corso. Terroristi mascherati in possesso di una bomba. Convergere subito verso Chelsea. Doc? Parker! Parker! In tempo per... un brindisi. Brindisi. Ehi, ma... Dove sono le braccia? Oh, wow. Pazzesco. Ma come ha fatto? Rete neurale intracranica. Velocità di trasmissione sotto il nanosecondo. Maggiore dei segnali interni al cervello. Figuriamoci di una protesi esterna. È fatta, Peter. E nessuno può toglierci il merito. Fantastico. E la tua rete neurale è stata la vera svolta? Ma... ma non è ancora pronta. Ci sono troppe incognite. Va, meraviglia. Su, dà un'occhiata. È straordinario. Un piccolo errore. Un picco di voltaggio. Si può risolvere. Un piccolo errore. Vediamo se funziona. No. Questo è peggio del previsto. Un piccolo errore. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il picco è a cascata. Non so se posso risolverlo. 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 Coraggio. Manca poco. Devo solo... testare meglio... testare meglio... vai... vai... va tutto bene. va tutto bene? I new yorkesi... I new yorkesi devono prendere una decisione che potrebbe cambiare il destino di questa città. Il giorno delle prossime elezioni ricordate quello che ho fatto. Oggi possiamo sentirci tutti più sicuri. bugie! Bugie! tu non immagini quello che ti aspetta. Dovrai sentire Miles. Pete! Hey Miles! Hey Miles! Volevo chiederti come hai preso le notizie su Martin Lee. Ascolta, se decidessi di lasciare quel lavoro, io e zia May capiremmo perfettamente. Quando l'ho saputo, volevo tirarmi fuori. Poi ho ripensato alle parole di mio padre. Un eroe è solo un uomo che non molla mai. È vero. Ammesso stia facendo quello che è giusto. Ti ho trovato io il lavoro, ma non sopporterei di saperti ingabbiato dove non vorresti. Queste persone... non hanno colpa per i crimini di Martin Lee. A loro serve aiuto e io sono qui per questo. È quello che papà vorrebbe e penso che sarebbe fiero di me. Sì, sono sicuro. E Miles, anch'io sono fiero di te. Se avessi voglia di parlarne, chiamami. Grazie, Pete. Vado ora. Devo sbrigare delle faccende per May. A dopo. Avviso a tutte le unità, Ivo. Posizione Nord e Alton. Passo. Grazie, Capitano. Hai catturato il dinamitardo. L'abbiamo. Non cambia molto. Il punto è che hai tirato parecchio la corda ultimamente. Dovresti prenderti una vacanza. Non amo le vacanze. Anche se potrei cambiare idea a sistemati gli sgherri di lì. Ma niente aerei o valigie. Voglio solo dormire due giorni di fila. Oh, tu sì che ti godi la vita. Beh, ognuno si rilassa come crede. Se è la noia che vuoi, te la sei meritata. Peter! Ehi, stai bene? Sopravvivo. Sono preoccupato per te. Gestisci questo posto da sola. Allora serve aiuto. Se perdo qualche ora di sonno, pazienza. Hai più avuto notizie del signor Lee dopo? No. Ma l'uomo che conoscevo era diverso. Chiunque sia diventato, io preferisco ricordarlo così. Allora... Come va con MJ? Diciamo che... Insomma, lei... Beh, sai, è un po' complicato. Sincerità, è così che bene io abbiamo superato i problemi. Problemi voi due? Ma certo. Soprattutto alla vostra età. Tu... Sei sincero? Sa chi sei veramente? Ehi! Alza un po', voglio sentire. Un portavoce della polizia ha confermato che questo era il camion con il dispositivo usato nell'attacco al Grand Central Terminal. Ah, non finirà mai. Peter!